Oggi per il venerdì dal sindaco siamo a San Sebastiano da Po, un piccolo comune a pochi chilometri da Chivasso, dove la collina torinese si fonda con le prime propagine della collina del Monferrato. Siamo qui per incontrare il sindaco Beppe Bava, un appassionato amministratore dal 1990 che ci parlerà delle particolarità che racchiude San Sebastiano da Po, realtà artistiche, culturali e architettoniche, parlando del castello di San Sebastiano, delle particolarità naturalistiche, raccontando l'oasi degli animali e soprattutto un progetto sociale importante come quello di Cascina Caccia. Benvenuti a San Sebastiano da Po, ridente paese all'imbocco del Monferrato. È un paese di 16 chilometri quadrati dove non esiste un centro. Noi siamo un paese con sette conglomerati, Moriondo, Colombaro, Caserma, Rottenga, Villa che è il centro storico, che è il capoluogo, Saronsella e Abate. Questo paese risale ai tempi degli antichi romani perché si risulta che la pieve dove oggi sorge il cimitero fosse la plebe degli antichi romani di industria di Monteudapò. Dopodiché si hanno dei documenti risalenti all'anno 1000. Dal 1000 in poi abbiamo documenti di esistenza di questo comune. E poi abbiamo una caratteristica, la caratteristica di avere a valle il grande fiume, il Po e a monte le colline. Noi ci estendiamo dai 100 metri di livello sul mare agli oltre 300 metri sulla collina. Abbiamo molte associazioni attive, la Proloco con la sua manifestazione principale, la Sagra del Pummatan, questi agnolotti di mele che fin dal 1989 sono un simbolo culinario del nostro paese perché è una vecchia ricetta tratta dalle frazioni, dalle nostre nonne, dalle nostre bisnonne, la ricetta di questo agnolotto povero che le famiglie povere di San Sebastiano cucinavano nelle feste importanti. Dopo abbiamo l'associazione Alpini dove non c'è avvenimento che non sia presente. Noi siamo gemellati dal 1990 con Monta Misè, ridente paese vicino a Poitiers. Abbiamo delle caratteristiche esclusive, abbiamo Cascina Caccia, bene confiscato alla mafia, oggi gestito da Agmos e dalla cooperativa Nanà dove si ricorda il bene che fu in mano alla mafia e che oggi è stato risanato. Luogo di ritrovo, di centinaia di classi da tutta Italia, di scuole medie e medie superiori, è un bene sociale. Poi abbiamo l'oasi degli animali che da alcuni mesi è diventata zoo, è stata dal ministero riconosciuta come zoo e infine la storia di San Sebastiano, la storia riassunta nel castello della villa, nella castello che oggi la famiglia Garrone gestisce e manutenta con grosse difficoltà perché i costi sono notevoli, ma è veramente un significato di San Sebastiano. Siamo un paese con moltissime opportunità, venite a trovarci, venite a sfruttare San Sebastiano, le sue bellezze e le sue caratteristiche. Sfruttare San Sebastiano Sfruttare San Sebastiano